Ciao ragazzi, il gioco di oggi è molto molto particolare, è semplicemente un ritrovamento di una carta solamente vista. Fatemi sapere se vi è piaciuto con un bel pollice in su. Ci vediamo, ciao! Ilà! Ciao Luca! Ciao Silvio, come stai? Tutto bene. Tutto bene? Allora, ti faccio subito lavorare visto che stai bene. Mescola. Quanto vuoi, quando vuoi. Ok. Anche così. Anche così, anche al ripor, se no ci fidiamo. Vuoi anche tagliare? Va. Allora, taglia. Perfetto, guarda. Alza una porzione di mazzo, grande quanto vuoi. Perfetto. Adesso io mi giro, dovrai guardare la carta che hai tagliato e mostrarla anche in camera. È importante così. Una volta che hai fatto, lasci tutto sopra e squadri, così non posso avere nessun riferimento. Ok. Hai fatto? A posto. Ok. Protocollo classico dei precisatori. Prima mescolo. Davvero intrecciato, dall'inizio alla fine. Ok. Ok. E dopo miscuglio, classico taglio. Ok. E guarda, per rendere la cosa un po' più interessante, interattiva, faccio un po' di mazzetti. Facciamo cinque. Così. Sono né troppi né pochi. Ok. E ti spiego quello che dovrai fare. Dovrai prendere un mazzetto alla volta, aprire tutte le carte a ventaglio, come se dovessi giocare a scala 40. Così le vedi tutte. Se vedi la tua carta, quella che hai visto, la prendi e me la metti in mano. Se non vedi la tua, che hai un altro mazzetto, come se niente fosse, ne prendi una a caso e me la metti in mano. Ok. Ne vedi pure quel primo. Perfetto. Poker face, totale, mi raccomando, altrimenti ti dammi dei suggerimenti. Il quarto. E l'ultimo. Perfetto. Quindi ho cinque carte in mano alla fine. Ma tu ne hai visto solo una? Sì. Digetto così. Per la prima volta, che carta avevi visto? Due di fiori. Due di fiori. Oh, ok. Perfetto. 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 Perfetto.